La rassegna annuale di eventi a tema sulla fotografia e l'arte contemporanea torna da oggi nella città della fortuna e si prolungherà fino a domenica 11 giugno. Curata da Luca Panaro e Marcello Sparaventi di Centrale Fotografia, sarà un'occasione per riflettere sull'Italia attraverso gli occhi di alcuni artisti che l'hanno scelta come luogo in cui formarsi e lavorare. Questo sarà possibile mediante incontri con gli autori, mostre, conferenze, tavole rotonde ed eventi collaterali alla ricca offerta culturale. Andrà ad aggiungersi l'opportunità di scoprire diversi luoghi fanisi come la Rocca Malatestiana dove si svolgeranno i principali appuntamenti dell'iniziativa. È una rassegna che tra le altre cose contiene questo omaggio che sono dieci anni di didattica che Centrale Fotografia ha fatto attraverso corsi di fotografia base tra Marche e Romagna. Dove verrà inaugurata? Allora, la mostra è al Caffè Centrale, che è la nostra sede, poi alla Memo e nel Salone Grande della Rocca Malatestiana. Tutte le iniziative della rassegna sono ad ingresso gratuito e per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito centralefotografia.com. Quattro giornate di eventi è l'insegna della fotografia contemporanea. Il tema di quest'anno è in Italia, questo è il titolo che abbiamo trovato, perché l'idea è quella di riflettere sulle opportunità che ci sono nel nostro paese e sul nostro territorio come luogo di grande capacità attrattiva nei confronti di artisti stranieri che qui vivono e risiedono. Ci saranno degli ospiti d'onore? Sì, gli ospiti d'onore sono Adrian Paci e Robert Gligorov, che saranno nostri ospiti e parleranno con il pubblico raccontando con taglio retrospettivo tutto il loro percorso artistico. In più avremo anche due giovanissimi che ancora studiano all'Accademia di Belle Arte di Brera a Milano, che sono Rui Wu e della Ram Mirna Ghibi, un'artista cinese, un'artista iraniana, che esporranno i loro lavori e con i quali rifletteremo anche sull'opportunità di venire in Italia come luogo di studio e di formazione. Grazie a tutti.